Oggi li vediamo sfrecciare su biciclette leggerissime, con cambiate secche e precise, concentrati solo sulla gestione fisica e sulle strategie, ma non è sempre stato così. I protagonisti del Giro d'Italia oggi corrono in condizioni molto diverse rispetto a un tempo e il Museo della Bicicletta di Cesio Maggiore, questo si capisce molto bene. Questa è la sala delle bici da corsa, da ciclismo, dove c'è una bici dagli anni 20 in poi, fino agli anni 70-80, in cui si vede tutta l'evoluzione delle bici. Per esempio questa bicicletta, che era quella della squadra di Bottecchia, con la quale ha vinto il Tour nel 24-25, è molto interessante vedere come è fatta, per esempio ha i cerchioni in legno, e più che altro per chi va in bici e sa cosa vuol dire, non ha nessun tipo di cambio, o meglio, c'è perché si cambia solo girando la ruota con un pignone più piccolo e uno più grande dall'altra parte, quindi insomma quello era il tipo di cambio. E con queste bici qua però facevano gli stessi passi, le stesse salite che fanno oggi i corridori con le bici supermoderne. Qui c'è la bici di Coppi, una bianchi, e dietro di me quella di Bartali, marchiata Gino Bartali, con le quali hanno fatto grandi imprese anche sui Dolomiti, per esempio nel 1953, poi abbiamo anche una foto che li ritrae in azione sul Pordoi. Che tra l'altro è la cima Coppi di quest'anno. Esatto, nella tappa di lunedì, da Sacile a Cortina, sarà il punto più alto di tutto il giro. Il confronto con le biciclette più moderne è immediato. Abbiamo appunto la bici di Pantani, quella che ha vinto due tarpe al tour del 1997, quindi diciamo 80 anni dopo le prime bici che abbiamo visto prima e cambia tutto, cambiano appunto per cominciare dai cambi, dalle ruote, alla leggerezza, alla rigidità, fino appunto ad arrivare a una bici di petacchi dei primi anni 2000 che abbiamo qui, che è tutta in carbonio e pesa 6,5 kg, cosa del genere, quindi la metà anche meno rispetto agli altri che abbiamo visto prima.